Un pomeriggio di sport, un pomeriggio bello per la città di Pianella perché con questo rinnovato campo si mette la ciliegina sulla torta a quello che è tutta l'impiantistica sportiva del comune di Pianella. Era molto attesa questa giornata di inaugurazione perché il percorso di rinnovamento dei nostri impianti sportivi vedeva questo manto sintetico di ultima generazione come uno dei punti fondamentali per completare tutta l'impiantistica. Dopo il Palatenda aggiungiamo quest'altra innovazione, portiamo ad un livello di fruibilità anche l'impianto di calcio maggiore, la qualità sembra essere restituita dal test di oggi in maniera eccellente per cui siamo davvero contenti di aver vissuto questa bella giornata grazie anche al Pescara che ci ha onorato della sua presenza. Ecco appunto di questo, ragazzi felici nell'avere un nuovo campo da gioco, ragazzi felici per aver visto i propri beniamini da vicino. Ma certo, è stata una bella festa e devo dire che Pescara l'ha vissuta con l'animo giusto, ha coinvolto tutti i ragazzi della scuola calcio che hanno potuto fare gli autografi e conoscere da vicino i loro beniamini. È stata davvero una bella giornata di festa dove il calcio professionistico si avvicina ai ragazzi e quasi gli fa toccare con mano quello che è il sogno di tutti loro.